Si parla molto di vaccini in quest'ultimo periodo anche a seguito del decreto che prevede l'obbligatorietà dei vaccini per l'iscrizione scolastica. Ecco, il Codacons ha denunciato il ministro Lorenzini e l'AIFA perché? Dunque, il Codacons è molto sensibile a queste problematiche e ha sollevato questioni di legittimità costituzionale di questo decreto legge, ben valutando se effettivamente questo decreto va a ledere quello che è il diritto del singolo consumatore. In tal senso sta valutando se effettivamente è lecito imporre a tutti i bambini, come sappiamo delle scuole asili nido, elementari e quant'altro, di subire 12 vaccinazioni contemporaneamente con un unico vaccino. In realtà, l'obiettivo e richiesta del Codacons è quello di poter ottenere il diritto a vaccinarsi singolarmente, quindi poter fare dei singoli vaccinazioni, ma soprattutto poter fare anche un percorso pre-vaccinazione onde valutare eventuali controindicazioni al test stesso. Il Codacons propone ai propri associati, quindi tutti i propri consumatori, di poter avanzare su un'istanza all'AIFA e anche alle singole ASL per poter fare un percorso pre-vaccinazione e per poter anche richiedere una vaccinazione singola e non collettiva. Ecco, è uscito proprio nelle ultime ore un fascicolo delle reazioni avverse dovute dai vaccini. Sì, abbiamo dei casi di reazioni anche molto gravi, si parla di bambini purtroppo deceduti, anche altri casi meno gravi, ma comunque una certa fascia di bambini che hanno subito delle conseguenze in virtù di questa vaccinazione che vede, come sappiamo, 12 vaccini contemporaneamente. Dunque, il decreto prevede le sanzioni abbastanza importanti, perché al di là di quella che può essere una sanzione pecuniare che va da 750 euro a 6.000 euro circa, ma prevede anche la mancata iscrizione alla scuola, si parla di asilo nido, si parla di asilo e di asilo nido, ma prevede addirittura l'eventuale segnalazione al Tribunale dei minori per un'eventuale sospensione della patria potestà. Ora, questo è un argomento molto importante e molto delicato, quindi è chiaro che un genitore non è che in automatico viene sospeso da questo tipo di diritto, ma ovviamente ha diritto di difendersi davanti al Tribunale competente per, ovviamente, vedere non sospesa la propria potestà genitoriale, che è una cosa molto molto importante, ovviamente. E quindi si potrebbe arrivare, secondo lei, realmente alla sospensione di una patria potestà? Secondo me assolutamente no. La sospensione della propria potestà è una cosa molto grave, molto importante. Un genitore ovviamente va in conto a questo tipo di sanzioni solo con comportamenti molto molto più gravi. Però essendo una materia innovativa, perché ovviamente il decreto è appena uscito, sarà una questione da affrontare nell'opportune sedi. Non vi è giurisprudenza in questo senso e pertanto ci affidiamo un po' alle esperienze diverse. Comunque ritengo che una sospensione della patria potestà debba passare da comportamenti ben più gravi.